Benvenuti a tutti, buongiorno. Iniziamo la conferenza stampa di presentazione del progetto del 42esimo Torino Film Festival. La cosa divertente di quello che mi appresto a fare è che ho dovuto esercitarmi non tanto a immaginare che cosa dire, ma sforzarmi invece di non dire. Perché? Perché naturalmente ci sono tante sorprese, tante novità, che è ovvio e normale che sia Giulio a rappresentarcele. Perciò io posso solo dire che il Museo del Cinema è estremamente contento di come le cose stanno andando. Siamo sicuri, abbiamo rappresentato ovviamente a Giulio quello che è il percorso, la traccia della realizzazione del Torino Film Festival, perché ovviamente è quella di mantenere quel DNA che il Torino Film Festival ha sempre rappresentato, quello di un festival giovane. D'altro canto così nasce per i giovani, per cinefili, ma nello stesso tempo io mi auguro che oltre a delle selezioni, appunto mi devo sforzare a non dire delle novità, oltre a delle novità anche anagrafiche nell'ambito dei selezionatori, diciamo così, ci sia la possibilità di far sì che il festival prosegua in quella direzione di riavvicinare alle sale centromagrafiche più pubblico possibile. Diciamo che questa stagione cinematografica sta andando relativamente bene, ma io credo che il festival debba essere anche uno strumento per portare persone al cinema. E questo è l'augurio che noi naturalmente facciamo a Giulio, siamo tutti compatti alle sue spalle, lui in questo momento è il nostro capitano, nel senso che così facciamo anche un augurio al film candidato agli Oscar che verrà scelto credo domenica, no? Questa domenica. Bene, non mi dilungo oltre perché non devo dire nulla e invito l'assessore in rappresentanza, l'assessore Purchi in rappresentanza del sindaco di Torino che ci ha fatto l'onore di essere qua presente per portare il saluto della città. Prego Rossano. Grazie, grazie Presidente, buongiorno. Sì, sono qua a testimoniare la vicinanza della città di Torino del nostro sindaco Stefano Lorusso e mio personale alle istituzioni culturali della nostra città che sono un gioiello. Noi cerchiamo di accompagnarle il meglio possibile, di fare un lavoro e un percorso insieme e sono qui per dare un grande in bocca al lupo al nostro capitano Giulio. Ok, grazie. Grazie, assessore. Adesso chiamerei qua il direttore del Museo del Cinema, Domenico De Gaetano. Grazie Presidente, grazie naturalmente a tutti voi per essere venuti qui. È un posto straordinario, fantastico. Grazie al Torino Film Fest e a noi di Torino abbiamo potuto vedere un panorama assolutamente incredibile di Roma. Quello che posso dire è che ogni anno praticamente, io sono direttore del Museo del Cina dall'ottobre del 2019 e in effetti quattro anni e mezzo abbiamo visto quattro direttori di festival diversi, giusto citarli perlomeno, quindi Emanuele Martini nel 2019 e poi dopo c'è stato Stefano Francia di Celle che tra l'altro è qua in sala, che ringrazio per essere venuto, mi fa sempre piacere vedere gli amici. Ogni volta che c'è un nuovo direttore è sempre una sfida, quindi dopo i due anni di Stefano Francia è arrivato Steve della Casa, due anni e adesso Giulio Base. È chiaro che l'anima del festival in questi anni, da quando è nato, è rimasta più o meno sempre la stessa. Festival che conoscete tutti, quindi inutile che vi dica, insomma, un festival dei giovani per le nuove scoperte, eccetera. Quello che può fare un direttore artistico è quello di aggiungerci la propria personalità, le proprie idee e siamo convinti davvero che anche per questo nuovo festival che ci sarà con Giulio e stanno già lavorando insieme, idee davvero incredibili come la macchina del museo e del festival si integrino anche con le sue idee, sono sicuro che appunto ci sarà il tocco di Giulio e siamo davvero contenti di scoprirlo. Grazie. Bene, grazie direttore. Voglio anche ringraziare Gabriele Molinari che è qua presente, membro del comitato di gestione del Museo del Cinema e chiamerei a questo punto il vero protagonista della conferenza stampa, Giulio Base. Grazie mille. Grazie di cuore per essere qui. Vedo tanti volti amici e in questi casi io non sono facilmente emozionabile però sono un po' emozionato quindi vedere gli amici in questo caso da forza. ringrazio ovviamente anche il sottosegretario amministratore della cultura, la senatrice Lucia Borgonzoni per la sua presenza, l'assessore Rosanna Purchi, il presidente Enzo Ghigo, il vicepresidente Gabriele Molinari, il direttore Domenico De Gaetano per le parole di incoraggiamento. mando poi un saluto di gratitudine per il lavoro svolto al mio predecessore nonché amico Steve della Casa e cominciamo. Allora, eccoci alla direzione di un festival a cui nomina, di alcuni mesi fa, mi ha riempito di gioia e che ancora mi elettrizza. Sin dal primo giorno di lavoro sto cercando di servire e onorare il TFF come un festival così importante e prestigioso merita. La colonna vertebrale del Torino Film Festival, lo sapete tutti, è cinefila e autoriale. Ebbene, tale rimarrà sicuramente anche durante la mia direzione. Questo per sgombrare subito dal campo qualsiasi equivoco. Resterà una rassegna di film dallo spirito libero, originale, fresco, indipendente, graffiante, giovane. Io tra l'altro c'ero quando questo festival è stato fondato. Si chiamava Festival Internazionale Cinema Giovani, molti lo ricorderanno. Negli anni poi l'ho frequentato, ma soprattutto l'ho amato e lo amo, e quindi non intendo tradirlo. Come linea guida principale mi piacerebbe proprio un festival che tornasse allo spirito di allora, contenuto fin dal nome. Il cinema è giovane. Forse lo rimarrà sempre. L'arte è sempre giovane. Figuriamoci la nostra venerata settima arte, che rispetto alle altre, che sono millenarie e più, è ancora in fasce. Chiarito il fatto che non sarò certo io a sconvolgere una manifestazione culturale già ben rodata, se sono qui oggi è perché c'è stato un bando per la nomina di un nuovo direttore, al quale venivano richieste delle innovazioni, un rinnovamento. I candidati dovevano presentare un loro progetto artistico. Il mio evidentemente è piaciuto, ed ecco perché sin da subito eravamo già tutti d'accordo per cercare di mettere in atto proprio quel progetto. Cosa diceva? E quindi cosa prevede il mio progetto artistico? Ho già detto che non sarà un mettere tutto sotto sopra, ma ci sono novità e ce ne sono parecchie. Diciamo che c'è una volontà comune di alcune migliorie nel rispetto della tradizione del TFF stesso. E quali migliorie? Procediamo con metodo, quindi proprio dall'inizio, in ordine cronologico. L'apertura. Il Museo del Cinema, la città di Torino, le autorità varie che ho incontrato in questi mesi, nonché i torinesi che mi incitano, sognano tutti un'apertura festivaliera con la proiezione di un film. Non è scontato, ed ecco perché lo sottolineo. Per fortuna la stessa cosa era fra i punti esposti nel progetto da me presentato. Di conseguenza la prima notizia è che ci sarà un opening, un opening con un film, un opening di charm, un opening speriamo ovviamente con un grande film, magari in anteprima mondiale, è presto per dirlo, ma ci stiamo già lavorando, e con una presenza auspicata di stelle del cinema nazionali e internazionali. Ciò avverrà il 22 novembre al Teatro Reggio, e cioè in una delle sale più capienti e più fascinose della città. Dal giorno dopo comincerà il festival, vero e proprio, col suo programma. Il programma. E anche qui ovviamente ci sono cambiamenti. In cosa consistono? Dovessi sintetizzare in una sola parola, userei la parola semplicità. L'alta qualità dei film innanzitutto, certo, ma con semplicità di fruizione soprattutto, e mi spiego. Come quasi tutti noi qui presenti, frequento diversi festival di cinema, e molti di voi li leggo spesso sottolineare, storcendo giustamente il naso, l'eccesso di film nelle sezioni più svariate, nelle forme più bizantine di quasi tutte le rassegne. Un magma in cui spesso non solo è impossibile per voi riportare le vostre impressioni ai lettori come vorreste, ma in cui è proprio gravoso viversi il festival come si deve, inondati da uno tsunami di titoli come accade il più delle volte. Invece ho cercato di studiare, abbiamo cercato di studiare con il team già presente, che ho trovato, lo dico con gioia, davvero efficientissimo, un programma, certo per ora è un programma solo virtuale, non abbiamo i titoli, ma un programma chiaro, agile, cosicché i frequentatori, i cinefili, gli spettatori occasionali, voi amici della stampa, insomma tutti, possano trovare un festival accogliente, leggero e da godere. Per fare questo andava pensato necessariamente un assottigliamento del numero dei titoli. Per enunciare dei dati concreti si passerà dai circa 180 più film e anche di più delle scorse edizioni ad un massimo di 120 opere. Come saranno suddivisi questi 120 titoli? Ed eccoci ad altre novità, cioè a parlare del nuovo ordinamento delle sezioni del festival, che saranno quattro competitive più due non competitive. Cominciamo con le quattro sezioni competitive. Il concorso principale, le cui fondamenta cinefile e di scoperta di nuovi autori, l'abbiamo detto, non si tocca. Sarà composto da 16 film, ma con un'altra, stavolta grande, innovazione. I film presentati dovranno essere in anteprima mondiale o internazionale. Due, il concorso documentari, ed ecco un'altra news di rilievo, non ci sarà nessuna distinzione fra concorso di titoli italiani o meno. Avrà 16 titoli in anteprima nazionale. Questo non per togliere spazio al titolo italiano, né anzi per fare assurgere il titolo italiano, appunto è internazionale. Lo dico anche da filmmaker. Se dovessi mai un giorno presentare un mio documentario al Torino Film Fest o ad altre feste, e vincere o venire selezionato o menzionato nella sezione documentari italiani, quando poi cerco di vendere quel prodotto, non credo di avere tutta questa attenzione. Se vinco, come sono menzionato, nella sezione documentari to court, è un pochino diverso. Quindi non ci sarà, come dire, una riduzione di titoli italiani. Forse ce ne saranno due o tre in meno, ma aiuteremo viceversa invece il titolo italiano a entrare in una competizione più grande e quindi internazionale. Il concorso cortometraggi, idem, anche qui nessuna distinzione fra produzioni italiane o meno, per lo stesso discorso che appena fa. 24 titoli in anteprima europea. Una sezione nuova, dal nome leopardiano, ma non vi spaventate perché è simpaticamente onomatopeico, cioè Zibaldone. Uno spazio totalmente libero ed eterogeneo, con opere audiovisuali di ogni genere, senza nessun vincolo di durata, di formato, di data o di anteprima. 24 titoli, anche qui, in questa sezione, ci sarà un premio del pubblico. Seguono le due sezioni che non prevedono premi, il fuori concorso, che pure avrà 16 titoli, segmento in cui vorrei davvero proporre un menù di film inclusivo, come diceva il Presidente, per la città e non esclusivo, e quindi con titoli anche molto popolari. Faccio un po' di programma. La parola esclusivo spesso ha preso un'accezione curiosa, sembra positiva, invece ex, dal latino esclusivo, cioè tiro fuori qualcuno, invece mi piacerebbe inclusivo, cioè portare dentro anche quei torinesi che spesso magari non si accostano al festival per paura che sia un festival solo duro e puro, che torno a ripetere, sarà, ma soprattutto nel fuori concorso e nel dizibaldone si presterà anche a titoli molto popolari. E per finire, sono strafelice di parlare di fronte a questo poster, che amo molto, la già annunziata retrospettiva di Marlon Brando, che avrà 24 titoli. Fatemi aggiungere che avendo da sempre una specie di ossessione per Marlon Brando, già da qualche anno, quindi molto prima anche di sognare lontanamente questa nomina, mi chiedevo dove sarei andato a seguire le celebrazioni del centenario per vedere la retrospettiva. Il fatto che la vita mi abbia regalato la possibilità di poter essere proprio io a proporla è un legalo enorme. Ecco qua. Oltre a queste appena annunciate, nessun'altra sottosezione, nessun fuori programma, nessuna mezzanotte speciale, nessun'altra deriva. Ecco perché, come ho detto, ma lo ripeto, i titoli speciali o particolari vanno comunque a spazio nello zibaldone. Tutto questo per un festival che mi auguro ricco e vario, ma soprattutto facile da poter godere come anticipato. Dulcis in fundo, perché ho già quasi finito, non voglio né annoiarvi né rubarvi troppo tempo, ci sarà una nuova squadra di selezione, tutta rinnovata, una squadra che al momento chiamo il mio vanto. Ma quando arrivano i giovani, si chiede la rivista cinematografica otto e mezzo sulla copertina di un'inchiesta recente, rispondo, arrivano oggi. Ho avuto la fortuna di essere stato un baby esordiente, ho fatto il primo film a 25 anni, so quanto conta che venga data fiducia ai giovani. Ebbene, la mia squadra di lavoro sarà giovanissima, ecco i nomi in ordine alfabetico. Davide Abbatescianni. Classe 1991, ci tengo, dirò le classi. Critico di Cine Europa, ha studiato in varie università fra Italia, Estonia e Irlanda, collabora con testate come Variety, The New Arab, New Scientist, Reader's Digest e Business Doc Europe. Martina Barone, del 1996, vanta collaborazioni contestate come Every Eye e The Square, è stata giurata alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e nella deredazione di Hollywood Reporter a Roma. Ludovico Cantisani, nato nel 2001, non ho sbagliato a leggere, produttore delegato dei progetti di Avventurosa, società di Pietro Marcello, ha pubblicato articoli e saggi di antropologia della narrazione, tra cui il libro L'Apocalisse è una festa e direttore esecutivo del Balkan Film Festival. Elvira Del Guercio, classe 1998, programmer del Sicilia Queer Film Fest, ha collaborato con Cineforum, con Nocturno e con la rivista della Cineteca di Bologna. Scrive di linguaggi artistici da una prospettiva femminista per testate quali Il Tascabile, Snapporaz e Not. Veronica Orciari, anno 2000, critica cinematografica per Sentieri Selvaggi, diplomata in regia a Londra, organizzatrice del Safe Fest Fano e collaboratrice di Corto Dorico d'Alcuna, è stata giurata al premio Young & Short alla mostra del cinema di Venezia e Davide Stanzione, classe 1993, critico del mensile Best Movie, cofondatore del dizionale del cinema online Long Take, selezionatore del Sulmona Film Festival, collabora col Cineteatro Barretti e col Cinema Agnelli a Torino. È una squadra di tre donne e tre uomini, il più anziano poco più di 30 anni, il più giovane poco più di 20, non credo quindi dover spiegare perché li chiamo il mio vanto. aggiungo che proprio in questo momento aprono sul sito del festival le iscrizioni e le selezioni e che io e i ragazzi non vediamo l'ora di vedere i primi film per metterci al lavoro nel selezionare quelli che riteniamo i migliori. Invitiamo quindi i filmmakers di tutto il mondo a farsi avanti fin da subito e mandarci le loro opere. Ora, prima di dare la parola al sottosegretario, comunico che ci impegneremo per fare del Torino Film Festival, un festival sempre più sostenibile e accessibile, un tema che mi è molto caro. Ecco perché abbiamo già incontrato con l'assessore Rosanna Purchia l'associazione più cultura accessibile Onlus e si è deciso che tre titoli della retrospettiva dedicata a Marlon Brando saranno resi disponibili non solo alle disabilità motorie ma mi assicurano che tutte le nostre sale già lo sono ma anche a quelle sensoriali e cognitive. Ecco fatto. Spero di aver mantenuto la promessa di brevità avrei ancora tante cose da dire o da definire mi auguro intanto di avervi dato una prima veduta d'insieme del nuovo corso del Torino Film Festival e sarò adesso o dopo più che felice di rispondere alle vostre domande ove abbiate il desiderio di porne. Grazie. bravo grande rispondo subito a una domanda che sicuramente faranno il budget per il festival rimane invariato perciò esattamente quello dell'anno scorso di questo non c'è pericolo invito e ringrazio per la sua presenza il sottosegretario Borgonzoni a venire qua al tavolo a portarci il suo saluto grazie io sono veramente felice di essere qui oggi in modo irrituale parlo per ultimo perché mi era stato detto altrimenti non potevo dire niente neanche bravo Giulio per cui ho detto magari intervengo per ultima perché ci tenevo a dire un paio di cose una su tutte io sono convinta che Giulio farà bene e devo dire che dopo oggi sono ancora più convinta perché per chi lo conosce lui di solito è abbastanza logorroico spigliato si era dimenticato anche il mio cognome per cui vuol dire che è emozionato e io credo che bisogna temere chi non si emoziona davanti a una nuova esperienza davanti a una nuova sfida per cui l'emozione è sicuramente un qualcosa che ti avvantaggia su tutti gli altri perché vuol dire che ci tieni vuol dire che ci metti passione e vuol dire che sai che hai davanti un grande compito non solamente per te ma chi prende questo festival prende una tradizione prende un qualcosa che è nel cuore di tanti non solamente di Torino è una grande responsabilità per cui il fatto che uno senta questa responsabilità è una cosa più che ottima il fatto che ci tenga ai giovani Giulio sa bene che io anche ora siamo venuti a Berlino stiamo cercando di dare più spazio possibile ai giovani i giovani attori i giovani registi i giovani musicisti perché esperienza mi ha portato a capire che i ragazzi hanno bisogno di spazi non hanno bisogno di fondi di soldi hanno bisogno di spazi dove farsi vedere riconoscere dove dimostrare le loro capacità per cui su questo ovviamente ringrazio Giulio per l'attenzione che gli dà come un'altra cosa che per me è molto bella quella legata alla questione della disabilità noi per quanto riguarda tutti i nuovi film ora metteremo anche una specifica maggiore perché anche se nella legge cinema è già detto che tutti i nuovi film devono avere un'accessibilità anche per le persone che hanno disabilità non fisiche in realtà spesso questa cosa poi non ricade nelle sale cinematografiche un po' per i distributori un po' per le sale per cui faremo una specifica ancora più stringente mettendo anche diffusione dentro il tax credit che ora dice che devono essere consegnate così ma la cosa che mi fa piacere è che ovviamente questo non vale per le retrospettive per cui riuscire a farlo anche piano piano in tutto quello che sono le retrospettive ci fa solamente essere una società più civile ogni tanto lo dimentichiamo magari a parole siamo bravi a raccontarlo sia diamo spazio ai giovani sia tutti abbiamo lo stesso diritto di accedere a tutto però poi in pratica pochi pochi lo fanno io devo solamente veramente aggiungere il ringraziamento alla squadra sia quella nuova sia la squadra che c'era sia Torino in generale perché è una città che ama tantissimo il cinema come tutto il Piemonte e questo ovviamente per mia delega e mia passione non può che farmi felice e sono convinta veramente che questo è un festival che può avere un respiro ancora maggiore ancora più internazionale di quello che ha perché ricordiamoci che quando si parla dei festival di cinema nel mondo Torino non è che è in fondo alla lista è ben posizionato in alto però credo che ci sia un margine di crescita molto grande e sono convinta che con questa squadra avremo dei grandissimi risultati grazie grazie mille naturalmente adesso ringraziamo il sottosegretario complimenti Giulio se ci sono delle domande credo che ci sia a disposizione un microfono volante per poterle fare al direttore del Torino Pinfest chiaramente a noi se ritenete ma non abbiamo su ordine di Giulio non possiamo dire nulla prego se non ce ne sono vuol dire che te le hanno già fatte probabilmente siamo stati esaurienti per il nostro se volete ne faccio io un baranzante un baranzante sì così grazie dunque sì no hai ragione infatti è venuto fortunatamente ci ha tolto ad impaccio una coincidenza di date allora noi avevamo scelto di fare l'apertura al Teatro Reggio che come sai come sapete è il Teatro Lirico di Torino che aveva messo l'apertura proprio il giorno 22 quindi le cose non coincidevano in maniera molto cortese il sovrintendente Juvain ha anticipato la loro apertura quindi è un tappeto rosso che in qualche modo ci ritroviamo e quindi ci toglie anche dell'imbarazzo lo fate non lo fate lo mettete io lo dico a spoiler una cosa in realtà nel mio programma c'era tra le tante tanto ormai non si può più fare dicevo il tappeto rosso secondo me sì ma anche venire fuori diciamo dalla retorica del tappeto rosso e magari farlo di un altro colore fare con i colori di Torino un tappeto blu bordato d'oro che appunto non è rosso ma è con i colori di Torino è un po' una piccola novità insomma il problema non si pone più perché avremo il tappeto rosso della serata d'apertura della stagione lirica e quindi tappeto rosso sì Griseri ha alzato la mano mi sembra grazie no solo una cosa visto che sono meno titoli se l'idea è di fare più repliche oppure ci saranno meno sale meno spettacoli in generale in che modo sfrutterete il fatto di avere meno titoli se appunto con più possibilità di vedere film o meno location grazie grazie a te della domanda Carlo le repliche senz'altro sì sia per appunto gli amici della stampa ovviamente hanno necessità di avere orari diversi di visione per quanto riguarda gli schermi più che le sale perché come sai le sale hanno ognuna tre stiamo valutando nel programma se effettivamente con la riduzione dei titoli potrebbe convenire o meno anche avere dei schermi meno per la mia esperienza da cinefil e frequentatore di festival più sei vicino a tutto lo sapete bene tutti attraverso vado dal Majestic alla sala alla Kenzen più è vicino meglio è quindi ovviamente il cinema accanto al cinema massimo il cinema romano ha una location talmente bella al quale non potremmo mai rinunciare ci sarà sicuramente una sala dedicata all'antiprima stampa per voi per i giornalisti questa ci mancherebbe dobbiamo ancora capire come sicuramente le repliche prima ho detto della squadra efficientissima io lo ripeto adesso non voglio togliere veramente segretario generale ufficio stampa organizzazione viaggi la mia PA ma l'ufficio dei programmatori io sono uscito una mattina vorrei già il programma fisico anche fossero con X1 C1 cioè concorso 1 retrospettivo 1 2 3 e ce l'ho adesso non ce l'ho qua fisicamente a farvi vedere la mappa ma c'è già questo programma chiaro di quello che sarà mancano ovviamente i titoli chiaro e preciso nell'ottica che vi ho detto prima fruibile ce l'ho fatto più che da direttore visto che adesso ancora i film non ci sono da da fruitore di festival cioè comodo so che giorno vado a vedere cosa vado a vedere e dove e questa credo sia una cosa buona positiva e sicuramente non mancheranno non mancheranno le repliche questo di sicuro se posso solo aggiungere in realtà questo annuncio no ne parlavamo col presidente qualche giorno fa il fatto di diminuire il numero di film anche insomma l'avevano detto anche altri precedenti direttori poi alla fine insomma non sono mai riusciti e i titoli sono sempre stati più o meno 180 infatti è più una sfida nel senso che a questo punto l'ha annunciato in maniera tra l'altro molto ferma mi pare rispetto agli altri quindi vediamo però anche guardando gli altri festival stranieri in effetti il numero di titoli è sempre piuttosto molto inferiore insomma rispetto ai 180 sono stati 110 140 quindi insomma prego no sì mi senti allora Giulio pur nella sua originalità secondo te il tuo tra virgolette ovviamente Torino Film Festival a livello internazionale come si può collocare a livello di struttura cioè lo vedi hai parlato hai usato spesso la parola cinefilia però io penso che tu starei anche attento un po' diciamo al mercato all'internazionalizzazione vuoi valorizzare il prodotto italiano come hai detto ci sono dei modelli che tu hai preso che ne so un pezzo da San Sebastiano un pezzo da Toronto un pezzo da Venezia o altre cose ci racconti un po' più nel dettaglio insomma a chi ti ispiri cioè grazie per la domanda tra l'altro sembra che hai letto il mio progetto artistico perché perché dicevo proprio questo ho avuto un modello anche nel fare il progetto del festival io non so quanti di voi siano stati mai al festival Lumière di Lione il festival Lumière di Lione è un festival diretto da Thierry Fremont che tutti voi conoscete essere il grande deleghe generale del festival più importante del mondo e cioè Cannes Thierry che è di Lione e che è cresciuto Lione che lì ha studiato che lì ha cominciato la sua grande collaborazione con Bertrand Travernier che poi l'ha fatto diventare il deleghe di generale a Cannes lui là si diverte veramente mentre Cannes ormai è una macchina tale che può andare senza di lui e che comunque lo senti che lo vedi che ha una responsabilità gravosa sulle spalle quando sta a Cannes a Lione Thierry si diverte a Lione Thierry fa un festival bellissimo vi consiglio veramente di andare molto cinefilo e molto popolare questa è stata la chiave che mi ha ispirato diciamo in qualche modo da modello perché vorrei fare esattamente questo cioè non rovinare la colonna vertebrale del film festival che è quello che ci siamo detti ma includere il più possibile anche il torinese che non è strettamente un accademico non è strettamente un universitario non è strettamente legato al mondo del cinema ma che è interessato anche a tornare alla sala questo mi lega a un'altra parte che in qualche modo poi rispondo anche all'internazionalità come mi colloco non so dove sei ma insomma ecco alla domanda di prima di Carlo cioè e che in qualche modo anche il presidente ha detto e anche il sottosegretario cioè la centralità della sala in questa snellezza di cui vi ho parlato tutto sarà centrale nella sala cioè ci saranno pochissimi incontri fuori speciali masterclass fuori dalla sala tutto nella sala cioè se viene auguriamoci adesso l'abbiamo contattato spoiler o la prima cosa sto raro a raccontarci di Ultimo Tango e a raccontarci di A Poca e Bissnau non è una masterclass lontana è prima del film dentro la sala cioè tutto è legato alla sala cinematografico e al film quindi ai film questo per rispondere alla snellezza del programma quindi ci saranno senz'altro gli ospiti ci saranno auguriamoci le star ci saranno senz'altro quelle che una volta si chiamavano masterclass ma tutto all'interno della sala o prima o dopo il film quindi strettamente legato al film tornando alla domanda sull'internazionalità del festival come mi pongo certamente rimane un festival cinefilo e mi auguro che possa avere poi un calibro internazionale del resto chi non vorrebbe diciamoci la verità un festival con bei film e tutte le star del mondo cioè è semplice lo vorremmo tutti lo vorrebbe Can lo vorrebbe Venezia lo vorrebbe Torino lo vorrebbe Roma lo vogliamo tutti poi farcela è un altro paio di maniche diciamo che intanto ci concentreremo sulla qualità dei film che quello in qualche modo è non dico più semplice ma insomma più alla portata di tutti se riusciamo a far venire delle grandi star ovviamente siamo tutti contenti vi do solo un'informazione di servizio al termine della conferenza stampa sopra c'è un light lunch non so se lo sapevate però insomma ho detto di dirlo e poi a Torino c'è sempre la morsa di Tim Burton fino al 7 aprile giusto ricordarlo visto che è un successo incredibile grazie eccomi qua Fabrizio Davidi Corriere della Sera Torino beh io faccio la domanda invece opposta da torinese quindi ragiono dal mio punto di vista al di là della internazionalità che farebbe felice un festival del genere mi chiedo invece quanto rimarrà della tradizione diciamo in termini di aiuto palcoscenico che il cinema giovani ha sempre avuto dalla prima edizione dove tu c'eri no? c'erano all'epoca magari c'erano solo i capannoni di fronte per strada così era un'altra cosa però Torino era al centro anche in una magari con delle retrospettive con dei nuovi autori se il nuovo festival avrà quindi un occhio particolare anche local oltre che più generalistico e in questo senso non ho sentito parlare di industry e lo chiedo solo perché negli ultimi due o tre anni noi siamo stati abituati a interpretare il Torino Film Festival anche come un ombrello che teneva anche strette altre realtà istituzionali della città quindi una domanda su questo punto di vista industry e local grazie 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 Fabrizio della domanda hai fatto bene a farla e sicuramente ci sarà spazio al local di sicuro il discorso che facevo prima della distinzione documentari italiani l'altro anno per dire in concorso nei documentari italiani c'erano otto titoli e quest'anno tutta la sezione dei documentari sono 16 internazionali ho ragionato sul fatto che certamente non ne potrò forse mettere otto che sarebbe sproporzionato però se ne metti sei e quest'anno a Cannes c'erano sei film francesi quindi non farei niente di scandaloso certo ne hai due di meno local però sei li fai diventare internazionali cioè parlo veramente quello che sognerei io da cineasta sogno di stare in un piccolo passatemi il termine ghetto nazionale o diventare mettermi in gara quindi secondo me è un alzare il local cioè metterlo alla pari dell'internazionale ovviamente con un occhio d'attenzione ai cineasti torinesi piemontesi è evidente questo dopodiché sempre la qualità dei film è la barra il timone che sarà tenuto dritto il più possibile per quanto riguarda film industry ho parlato già con Paolo Manera ce lo siamo detti attenzione anche là però anche là per non fare di un programma quello che ci siamo detti prima è un grande casino lo spazio giusto e bello dell'industria che anzi più cresce meglio sarà con un chiamiamolo programma parte ecco non mischiato all'interno di quelle sale che invece come ci siamo detti saranno pulite ordinate Snell viceversa ovviamente nello stesso chiamiamolo cataloghino ora vedremo se facciamo il catalogo programma insomma non lo so però all'interno del programma con un programma come succede a Cannes come succede a Berlino non c'è i film del Marché dentro la selezione ufficiale e ne guadagnano sia il mercato che la selezione ufficiale con grande ripeto attenzione comunque all'industria ci mancherebbe volevo chiedere solo un'altra cosa di cui un pochino aveva parlato però ti chiedevo di tornarci festival sono anche diciamo sono fondamentalmente anche la proiezione della visione critica del direttore quindi la visione che il direttore ha sul cinema di questo non possiamo ancora parlare perché non abbiamo i titoli però abbiamo Marlon Brando che mi sembra insomma fondamentale e che mi sembra una scelta che racchiude appunto il pop e poi anche ovviamente il grande cinema ma anche livelli altissimi insomma volevo che tornassi un pochino su questo se questo tipo di scelta appunto così che ha caratterizzato la retrospettiva sarà anche quella che ti guida poi nelle scelte dei film perché era importante scegliere Brando per la retrospettiva grazie grazie Fulvio questo mi dà l'assist per parlare un po' di Brando che è la cosa che mi piace più nella vita lo dico senza falsa modestia conosco molto bene Brando credo di aver letto in italiano sicuramente tutto quello che c'era nelle lingue che conosco quindi inglese francese un po' di spagnolo qualcosa non tutto perché la bibliografia è vastissima quindi avrò piacere come già detto di presenziare a tutte le proiezioni della retrospettiva in prima persona e di introdurle perché Brando? intanto perché è l'attore più grande di tutti i tempi unanimemente riconosciuto dai suoi colleghi e dai colleghi delle generazioni future come quello che ha segnato che ha cambiato per sempre la recitazione la notte cui lui è entrato in scena a Broadway sul palcoscenico interpretando Stanley Kowalski nel tram che si chiama Desiderio l'arte della recitazione è cambiata per sempre te lo dice uno che ha fatto anche l'attore e che ha segnato e ha cavalcato insieme a lui tutte le grandi turbolenze del novecento Time l'ha messo tra i cento personaggi più influenti del secolo unico attore in compagnia di Pablo Picasso i Beatles Coco Chanel quindi non è soltanto il grande attore che benvenga se riusciremo a portare persone che vogliono vedere il divo ma è stato un ambientalista anteliteram ricorderete che nella sua isola voleva già quello che tutti le battaglie green oggi dicono è stato un si è schierato a favore di tutte le battaglie possibili minori e poveri natives american afroamericani ha marciato a Washington è stato arrestato nativi americani quindi indiani tutte le battaglie ambasciatore unice fa cui ha versato chissà quanti soldi è stato un uomo veramente attivo ribelle da tutti i punti di vista ed è un uomo che dal punto di vista diciamo di ciò che rappresenta è stato un simbolo per i giovani e della sua generazione e quella successiva proprio di atteggiamento anche vitale mio padre che in questa mia emozione di oggi c'entra molto dopo se volete vi sto che vi vedo attenti questo mi piace mi diceva noi negli anni 50 noi ci facevamo tutti i capelli alla marron brando come ce l'aveva in fronte del porto cioè era era quasi un obbligo diciamo per piacere e quindi sarò felice di un uomo che poi come Napoleone che tra l'altro ha interpretato a modo suo in un film che si ricorda meno ma che noi proietteremo che si chiama Desiree dalla polvere all'altare e di nuovo dalla polvere all'altare cioè ha cominciato diventando star immediata dal primo film anzi dal primo teatro tra un desiderio subito divo mondiale Oscar con fronte del porto il selvaggio i primi film volava dopodiché ha avuto qualche decennio e poi è stato capace di risorgere ricorderete il padrino il più grande uno dei più grandi in cassa di tutti i tempi il film è citato da tutti gli archivisti i collezionisti Apocalypse Now altro capolavoro il Merighetti che mi piace citare nelle sue colonne dice c'è un prima e un dopo Apocalypse Now nella storia del cinema e quindi ha segnato veramente il novecento in tutti i sensi quindi mi sembrava importante e come ho detto prima che la vita mi abbia fatto questo regalo casuale diciamo anche se nulla succede per caso di poter essere io a proporre una retrospettiva del genere mi sembra una bella festa e quindi mio papà ne sarà contento cito mio papà perché adesso visto che appunto c'è attenzione la mia emozione viene dal fatto che io sono nato e cresciuto a Torino ma papà e mamma emigranti classici emigranti degli anni cinquanta valigia di cartone non dico niente di vergognoso papà mi ha passato la passione per il cinema perché vendeva noccioline in un cinema a Napoli e così è cresciuto e si è innamorato del cinema aveva una conoscenza del cinema diversa dalla mia o dalla nostra adesso non so chi accademica di chi una volta facevano tre quattro cinque film al giorno uno al pomeriggio uno per i soldati uno alla sera cambiavano così quindi in quei dieci anni che lui ha fatto questo aveva una conoscenza incredibile io quando il lunedì sera qualcuno se lo ricorderà sul primo c'era il fin del lunedì che erano sempre i film di quel periodo papà ne parlava come Vieri Razzini come Claudio Giffava cioè ne parlava lo sapeva a memoria e mi hanno passato questa passione quindi una città che li ha accolti questi due appunto emigranti e che li ha cresciuti ora non ci sono più che il figlio in questo momento abbia questa bella nomina che in qualche modo nella città è un po' apicale insomma per me è un'emozione grande e voglio restituire tutto l'amore che mi hanno avuto da Torino e che anch'io ho avuto alla città grazie grazie